Musica Ben ritrovati al telegiornale oristanese. Apriamo con la politica. Hanno giurato gli ultimi sei assessori regionali della giunta Solinas. Scattata la nomina anche per Anita Pili, sindaco di Sia Maggiore, il cui nome circolava da qualche tempo fra i papabili. A lei va l'assessorato all'industria. Sono quindi due le rappresentanti in regione per la provincia di Oristano. Insieme ad Anita Pili, infatti, va in regione anche l'assessore Gabriella Murgia, alla quale è stato affidato l'assessorato all'agricoltura. A loro e a tutta la giunta, da parte della redazione di Super TV, va l'augurio di un buon lavoro. Proseguono i lavori sulla via Cagliari per l'abitumatura. Questa mattina cantiere aperto anche in via Mazzini, a causa del cedimento di una parte del manto stradale. Vediamo. Cantiere comunale aperto questa mattina nella centrale via Mazzini, a Oristano, dove intorno al civico 83, al centro della carreggiata, si è verificato un cedimento del manto stradale. La buca creatasi è stata transennata dagli operai che hanno iniziato i lavori di ripristino intorno alle 9 del mattino. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti e il problema è stato risolto celermente. Diversa la situazione nella più trafficata via Cagliari. I lavori per l'abitumatura iniziati la scorsa settimana ancora non sono terminati e specie nelle ore di punta vengono a crearsi lunghe code di auto. Disagio che, pensandoci bene, non si verificherebbe qualora i lavori venissero effettuati negli orari notturni, quando la circolazione sulle strade cittadine è decisamente ridotta. Si eviterebbero stress e malumori. L'assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale ha prorogato al 24 maggio i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento nel catalogo di proposte progettuali per l'attuazione del programma regionale Dopo di noi. Le domande potranno essere presentate esclusivamente nella piattaforma informatica Sportello Unico dei Servizi entro le ore 21 del 24 maggio collegandosi alla pagina dello Sportello Unico dei Servizi. Il gruppo La Civica Oristano ha presentato un'interpellanza con la quale chiede di aveare un percorso virtuoso e condiviso per la graduale eliminazione dei rifiuti di plastica dal territorio comunale con particolare riferimento alle spiagge in vista dell'imminente stagione balneare. Sentiamo. La plastica è il nemico numero uno dei mari degli arenili sardi ma attenzione le consuetudini scorrette non riguardano soltanto chi va per mare e chi vive lungo la costa devono fare un esame di coscienza soprattutto alle popolazioni lontane dal mare che inquinano attraverso i fiumi. È assolutamente indispensabile avviare un percorso virtuoso e condiviso per la graduale eliminazione dei rifiuti di plastica dal territorio comunale con particolare riferimento alle spiagge in vista dell'imminente stagione balneare. È questo l'oggetto dell'interpellanza presentata al sindaco Luzzo dai consigli del gruppo La Civica Oristano, Giuseppe Puddu, Angelo Angioi, Vincenzo Pecoraro e Lorenzo Pugeddu. Il comune di Oristano è da tempo impegnato nella tutela e salvaguardia dell'ambiente e a favorire tutte le iniziative finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema nell'intero territorio comunale. La tutela dell'ambiente rientra tra gli interessi primari di tutte le amministrazioni pubbliche perché è strettamente correlata alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Oristano, da circa dieci anni, attua il sistema della raccolta differenziata che gli ha permesso di raggiungere ottimi risultati in relazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica. Il gruppo La Civica Oristano vuole che il primo cittadino oristanese meta un'ordinanza disponendo il divieto assoluto di utilizzo sugli arenili ricadenti nel territorio e in altri ambiti urbani, particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico ambientale, dei sacchetti in plastica monouso e degli altri articoli di plastica monouso. Il 17 maggio verrà inaugurato a Oristano il Centro Internazionale per la Ricerca sulle Civiltà Egee dell'Università di Sassari. Il centro, che nasce dalla collaborazione fra l'Università degli Studi di Sassari, il Consorzio 1 e il Comune di Oristano, avrà la sua sede nel Museo Antiquarium Arborense. La direzione scientifica del centro è affidata a Massimo Perna, docente dell'Ateneo di Sassari presso la Scuola di Specializzazione a Oristano e dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. La Madonna di Bonaria il 16 maggio farà tappa a Santa Giusta. Sentiamo. Giunse dal mare il 25 marzo del 1370 la statua che tutti conosciamo col nome di Madonna di Bonaria, patrona massima di Cagliari, della Sardegna e dei naviganti. Ed è proprio in nave, durante il secondo periplo dell'isola, che giungerà nel porto di Santa Giusta giovedì 16 maggio per la prima tappa del pellegrinaggio a bordo della Mobiotta, promosso in occasione dell'anniversario dei padri mercedari, custodi del santuario di Cagliari. Ad attendere l'arrivo del simulacro, previsto per le 8.30, ci sarà il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus insieme al sindaco di Oristano Andrea Luzzo. Saranno loro a dare il benvenuto ai pellegrini e a Monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari. Il simulacro della Madonna di Bonaria sarà esposto nella piazza delle Capitanerie di Porto e per tutta la giornata sarà possibile dedicare a lei una preghiera. Previsto stavolta anche un tour della città di Eleonora, dopo il flop della precedente sosta di una nave da crociera, in occasione della quale i turisti erano stati accompagnati solo nel Nuorese. I 350 pellegrini giunti a bordo della nave Mobi si sposteranno infatti con alcuni pullman, in primis a Santa Giusta per la visita della Basilica, poi nella cattedrale di Oristano con tappa nel centro storico. A fine mattinata i pellegrini faranno rientro in nave. Nel pomeriggio due autobus faranno servizio navetta, partendo da Oristano nei presi del Tribunale e da Santa Giusta davanti al Comune, verso il Porto, dove alle 18 sarà celebrata la Santa Messa da Monsignor Ignazio Sanna, arcivescovo emerito di Oristano. La Madonna di Bonaria a bordo della Mobiotta ripartirà intorno alle 23 in direzione Porto Torres, a bordo anche i sindaci Figus e Luzzo, che accompagneranno la statua per un passaggio di consegno ufficiale al sindaco turritano. Torna a Oristano l'evento Buongiorno Ceramica. Vediamo il servizio. Dal 17 maggio torna a Oristano Buongiorno Ceramica, evento promosso dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, della quale Oristano fa parte, dal Comune, da Terracotta, il Centro di Documentazione sulla Ceramica di Oristano e dal Touring Club. Una manifestazione che si rivolge a un pubblico di appassionati della tradizione, dunque, ma anche ai giovani e ai bambini che saranno coinvolti in questa travolgente ricerca e scoperta della bellezza del saper fare, proprio grazie alle moltissime iniziative proposte. Si comincerà venerdì 17 con la presentazione alle ore 17 nell'aula conferenza della Biblioteca Comunale della Guida, le Città della Ceramica. Previsto anche il Laboratorio Sperimentale Didattico per i studenti dell'Istituto Comprensivo numero 1 d'Oristano. Il ricco programma di eventi si concluderà con l'open space d'arte crudo, cotto e biscotto, a cura dei maestri ceramisti oristanesi. Ad Arborea torna a fine maggio, primavera in fiera. Vediamo il servizio. Torna ad Arborea a primavera in fiera, giunta la sua quarta edizione, evento di promozione degli avvicunicoli ornamentali, florovivaismo, giardinaggio e ubistica, a cura del Comitato Avvicunicolo Sardo e della Proloco di Arborea, d'intesa con il Comune e il Sistema degli Enti. Inserito l'appuntamento gastronomico a tavola con gli ortaggi di Arborea dedicato a questa linea alimentare, la data di svolgimento è quella di domenica 26 maggio presso il centro fieristico sulla strada 19 Est. Ingresso libero, apertura, ore 9.30. Flag pescando a Bruxelles per la sottoscrizione della carta di intenti per la gestione dei rifiuti derivanti dal turismo. Vediamo. Si è svolto martedì 7 maggio a Bruxelles la conferenza finale per la presentazione del progetto pilota Urban Waste, presente anche il flag pescando. L'interessante piano di lavori è stato attivato tre anni fa da un gruppo di 27 partner di diversi paesi europei, coinvolgendo 11 città che hanno sviluppato una serie di interventi per la realizzazione di due obiettivi principali. Il consolidamento di forme di turismo sostenibile e una corretta gestione dei rifiuti prodotti dai turisti e dai servizi turistici. Il flag pescando ha accolto con profonda convinzione l'invito a dirire all'iniziativa Urban Waste, dichiara in una notte il presidente Alessandro Murana, che ha rappresentato l'associazione nel corso dell'importante incontro internazionale con una delegazione della regione Sardegna e con i rappresentanti degli altri tre flag sardi. Riteniamo che la tematica della gestione dei rifiuti derivanti dal turismo e dai servizi turistici sia di grande attualità e di fondamentale rilevanza per le sue implicazioni socio-economiche e ambientali. ha concluso Murana. Giovedì 16 maggio alle ore 18 a Oristano, nella sala del Centro Servizi Culturali Ulla, presentazione del libro di Salvatore Pinna dal titolo Ipirella, origine e ascesa di una famiglia della nuoro feudale. Dialoga con l'autore Raffaele Cao, archivista e genealogista. La Biblioteca Comunale di Cabras per la rassegna letteraria Raccontiamo venerdì 17 maggio alle ore 18 propone il libro Gli altri occhi di Alina, di Luciano Corona. Dialogheranno con l'autore Nando Secchi e Brunella Salis. Con questo è tutto. Vi ringrazio per averci seguito. Come sempre vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo redazione chiocciolasupertvoristano.it o sulla nostra pagina Facebook. Buon proseguimento. Grazie a tutti.